Fa la voce grossa limolese di Mr. Carobbi. In casa del temibile Carrechi Uppano, capolista del girone A di Serie 2, i romagnoli non hanno paura e mettono in difficoltà i padroni di casa. Vicentini in assetto difensivo per larga parte del match, cinici accorti passano in doppio vantaggio con Senna e Quinellato. Accorcia Liberti, poi Pedrinho allunga ancora con Castagna e Vignoli a ricucire. Senna mette la freccia e proprio quando i tre punti sembrano ad un passo per i Veneti, lo scarico potente di Liberti sul Gong, che gli vale la doppietta di giornata, regala un punto meritatissimo ai Rosso-Blu. Nell'occasione Butturini viene espulso per doppia munizione. È stata una partita molto tosta, c'è stata tante occasioni, tanti ribaltamenti, tutte le squadre avvise aperte, abbiamo lottato molto, quindi è una partita sicuramente difficile. Ci portiamo a casa un pareggio in trasferta contro la prima in classifica, appunto pareggiando all'ultimo secondo, che ovviamente fa morale e dà consapevolezza che siamo una squadra che ci crede, che ci crede in ogni campo e ha voglia di lottare.